2 milioni per la ripartenza, 600 mila euro alle vittime economiche del covid. Il comune di Arezzo ha infatti attivato una tax force che durerà per tutta l'emergenza sanitaria e che si occuperà di stilare una banca dati con tutti i casi di difficoltà in città. Alla prima riunione del tavolo operativo, presieduto dal sindaco Alessandro Ghinelli, hanno partecipato, assieme ai rappresentanti della maggioranza e dell'opposizione in consiglio comunale, la Caritas, la Croce Rossa Italiana, la Croce Bianca, la Misericordia, Arezzo Casa e la Polizia Municipale. La realtà, spiegano gli assessori, tanti enesini, come temevamo, ci sta mettendo davanti a profondi cambiamenti e nuove criticità che vanno affrontate con tempismo, trovando soluzioni funzionali. Tutti i soggetti presenti al tavolo contribuiranno a creare così una nuova banca dati di persone e famiglie autonome fino a due mesi fa, che oggi autonome non lo sono più, sono le vittime economiche del Covid-19. Inoltre, in collaborazione con i servizi sociali del Comune, spiegano, ci siamo dati il compito di ridefinire gli strumenti con cui vengono valutate le condizioni di vita della popolazione. È impossibile, alla luce di quello che è successo, continuare a muoversi con gli stessi criteri utilizzati prima dell'epidemia. Oggi è indispensabile, proseguono, un livello di attenzione maggiore per le famiglie con minori, per le disabilità e per i servizi educativi, e il Comune non può non essere in prima fila per una lettura diversa, più approfondita, del bisogno sociale. Proprio per questo l'amministrazione sa per varare una manovra economica di circa 2 milioni di euro, una forte iniezione di liquidità per aiutare la città a riprendere vita, un punto di partenza e non di arrivo. Circa 600 mila euro, concludono, verranno utilizzati per provvedimenti a favore delle vittime del Covid, in modo da arginare e contenere gli effetti della crisi. Un ruolo fondamentale, infine, sarà affidato agli agenti della Polizia Municipale, che oltre a svolgere il lavoro a tutela della sicurezza, è chiamata anche a fornire un'opera d'aiuto e sostegno a favore dei più deboli, in sinergia sempre più stretta con i servizi sociali. A breve il piano operativo tornerà a riunirsi e sarà già il momento delle prime risposte concrete.